Definito il protocollo per lo svolgimento delle elezioni amministrative di ottobre nel Bresciano, coinvolti 27 comuni. Al banchetto online con lo speed, traccolte fino ad ora 750.000 firme per l'eutanasia regale, ma i promotori puntano al milione. Dopo un avvio di un poco claudicante, ora è operativa la piattaforma per il rilascio del bonus TV in tutti i negozi elettrodomestici. Tutti i precedenti le curiosità legate a Brescia-Cosenza domani sera al debutto casalingo a Rigamonti con il pubblico sugli spalti. Qui lo sai, quando c'è il sole è fantastico, ma è quando viene giù che diamo il meglio. Abbiamo il coraggio di guardare lontano, negli affetti come nel lavoro. Abbiamo le nostre abitudini, ci piacciono le stesse cose. E con la forza dei nostri soci, viviamo lo stesso territorio da sempre, per creare opportunità e affiancarti nei tuoi sogni e nelle scelte di vita. Ti aspettiamo in BCC Agro Bresciano. Ci riconosceremo al volo. Una buona sera dalla redazione di E-Live e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale che, come avete sentito nei nostri titoli, apriamo parlando di elezioni, elezioni amministrative che si terranno, ormai lo sappiamo, il 3 e il 4 ottobre prossimi, 27 i comuni bresciani chiamati a rinnovare la propria giunta e poi tra l'altro scopriremo anche i candidati di uno di questi comuni, il più grande. Però andiamo con ordine perché quest'oggi il Viminale, insieme al Ministero della Salute, ha pubblicato quello che sarà il protocollo per delle elezioni anti-Covid. Tutte le regole che ormai conosciamo, ma anche una novità come i seggi speciali per permettere di votare anche alle persone in quarantena. Così come nel 2020, anche in occasione della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre prossimi, i Ministeri dell'Interno e della Salute hanno stilato un protocollo di sicurezza anti-Covid. Le norme sono quelle che, grosso modo, ormai ben conosciamo, tanto per l'allestimento dei seggi quanto per i comportamenti da mantenere quando ci si trova all'interno. Ove possibile, la circolare richiede percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza fra i flussi di entrata e quelli di uscita, ingressi contingentati con aree di sosta all'esterno dell'edificio, distanziamento a non inferiore un metro fra gli operatori del seggio e non meno di due metri quando all'elettore sarà richiesto di rimuovere momentaneamente la mascherina per l'identificazione. Per accedere ai seggi elettorali è infatti obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso del seggio, ad esempio i rappresentanti di lista. Al momento dell'accesso l'elettore dovrà igienizzarsi le mani con il gel messo a disposizione in prossimità della porta, quindi dopo l'identificazione e prima di ricevere scheda e matita dovrà farlo nuovamente. In continuità con quanto già disposto per le consultazioni del 2020 è stata prevista l'istituzione di sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie, con almeno 100 posti letto che ospitano reparti Covid, le quali, per mezzo dei relativi seggi speciali, saranno chiamate anche a provvedere alla raccolta del voto domiciliare e del voto dei ricoverati nei reparti Covid, di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Il decreto legge ha inoltre introdotto un'importante novità, al fine di assicurare il diritto di voto da parte di coloro che si trovano in trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario. In tal senso è stata riconosciuta ai comuni, nei quali non sono ubicate le strutture sanitarie Covid, la possibilità di istituire seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare. In caso di accertata impossibilità del comune di costituire questi seggi speciali, potrà essere istituito un solo seggio speciale per due o più enti locali. Per garantire adeguate condizioni di sicurezza, infine, è stato disposto che i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali dovranno essere in possesso del Green Pass. Come promesso, ora cerchiamo di capire un po' meglio qual è la situazione di Bagnolomella. Lo abbiamo detto, il comune più grande dei 27 del Bresciano che andranno ad elezioni, con quasi, insomma, 12.700 abitanti. Tre i candidati in lizza attualmente. Ci sarà un nuovo primo cittadino perché dopo due mandati Cristina Almici dovrà lasciare. Bagnolomella è uno dei 27 comuni bresciani chiamati a rinnovare la propria giunta nella tornata elettorale di amministrative fissata il prossimo 3 e 4 ottobre. Attualmente sembra che i giochi siano fatti e i nomi già sul tavolo tra i candidati per sostituire l'uscente Cristina Almici che non può tentare il Tris. Il nome scelto per la continuità è Pietro Sturla, definito candidato civico e individuato dalla stessa Almici come suo erede. La lista si chiama Continuiamo per Bagnolo con Sturla sindaco ed effettivamente in un certo senso di continuità si può parlare, visto che Sturla ha ricoperto la carica di vice sindaco. Civico perché dopo il silenzio iniziale dei partiti il centrodestra ha deciso di disconoscere questa candidatura e calare a sua volta un nome, Eleonora Rossini. La Rossini scende in campo con una sua civica appoggiata però da Lega e Forza Italia, divenendo quindi espressione, di parte del centrodestra. Il terzo candidato era ormai noto dal lontano mese di gennaio. Si tratta della cosiddetta preside di ferro, al secolo Ermelina Ravelli. Dopo una carriera nella scuola la Ravelli è a capo della sua civica Bagnolo Aperta e fra i propositi dichiarati in campagna elettorale ci sono trasparenza, confronto con la cittadinanza, continuità e rispetto. Bagnolo Mella è il più grande dei comuni bresciani al voto con circa 12.700 abitanti. Nonostante ciò non raggiunge la soglia dei 15.000 e quindi il nuovo primo cittadino sarà eletto in un unico turno. Avevamo sfiorato, parlato dell'argomento Covid in apertura, al declinato a quella che è la politica, declinato a quelle che saranno le prossime elezioni amministrative. Adesso entriamo a pieno in questa tematica e lo facciamo spostandoci su elibrescia.tv, il nostro sito internet per uno sguardo alla situazione dei dati, alla situazione dei contagi a Brescia e in Lombardia. Come possiamo vedere purtroppo dal nostro titolo di questa sera, la situazione di Brescia quest'oggi vede un repentino e anche abbastanza corposo aumento dei nuovi contagi che dopo il 96 di ieri, l'avevamo detto, abbiamo sfiorato i 100 contagi. Quest'oggi la soglia dei 100 contagi è stata superata. 122 nuovi casi di Brescia, positività all'1,9% in Lombardia. Osserviamo brevemente l'infografica, 38.173 i tamponi processati più o meno in linea, leggermente inferiore rispetto a ieri, 758 i nuovi contagi e qui invece sì, c'è un aumento. Abbiamo detto Brescia, 122 casi ed è l'unica provincia della Lombardia che supera i 100 nuovi casi insieme a Milano che ne fa segnare 236. Per quanto riguarda i ricoveri, qui si possiamo trovare delle buone notizie perché dopo diversi giorni ritroviamo due segni meno seppur minimi, meno uno tanto nelle terapie intensive quanto nei reparti covid convenzionali in area medica. Sono sei i decessi attribuibili al covid e segnalati nella nostra regione nell'ultima giornata. TS Brescia ha fatto sapere che nessuno di questi è relativo alla nostra provincia o alla nostra città. Per chiudere la pagina dedicata al coronavirus parliamo di scuola, del ritorno a scuola perché manca ormai sempre meno, circa un paio di settimane. Attualmente il governo, in particolare il ministro Patrizio Bianchi, ha lavoro sul nodo ancora da scioglierlo, sta cercando di scioglierlo insieme ai presidi che è quello del controllo dei Green Pass ogni mattina a tutti i lavoratori della scuola. Sui controlli dei Green Pass a scuola stiamo lavorando con presidi e il garante per avere uno strumento semplice e facile che permetta loro tutte le mattine di controllare chi ha il disco verde e chi il disco rosso. Così il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che a pochi giorni dalla prima campanella del nuovo anno scolastico è ancora alle prese con il nodo della verifica dei Green Pass obbligatori per i lavoratori. Sembra che attualmente l'ipotesi più quotata sia quella di una piattaforma a cui avranno accesso i presidi e dove ogni mattina apparirà lo stato del Green Pass dei lavoratori della scuola in questione. Luce verde se è ancora valido, rossa se invece è scaduto. A quel punto il dirigente scolastico dovrà raggiungere il personale con bolino rosso per non farlo entrare in classe, se non dopo l'esecuzione di un tampone. In caso contrario scatterà come da norma la sospensione senza stipendio e dopo cinque giorni di stop si interromperà anche il rapporto di lavoro. Sull'obbligo vaccinale per il personale scolastico non c'è divisione, prosegue Bianchi. La situazione sta tranquillamente mutando, siamo sopra il 90% dei vaccinati. Un'ulteriore novità già anticipata in passato dal ministro riguarda le contromisure nel caso del riscontro dei positivi. Se in una classe c'è un positivo scatta una procedura chiara che il preside deve seguire, ha concluso Bianchi. Il soggetto viene allontanato, lo stesso, per quelli più vicini a lui e si verifica subito quanto è ampio cluster. Abbiamo aperto il telegiornale parlando di elezioni, quindi parlando di un voto e proseguiamo ora parlando di un referendum, o meglio, della raccolta firme per il referendum sull'eutanasia legale. Quest'oggi l'associazione promotrice di questo referendum ha dato un po' di cifre. A qualche settimana dall'apertura della raccolta firme se ne sono state raccolte oltre 750 mila, ma la volontà di proseguire oltre è di arrivare almeno un milione. Sale oltre 750 mila il numero delle firme raccolte per il referendum promosso dall'associazione Luca Coscioni, ribattezzato per l'eutanasia legale. Oltre 500 mila sono state raccolte nei banchetti distribuiti in tutta Italia, anche a Brescia, e le restanti sono invece arrivate online, dove è possibile firmare tramite speed da un paio di settimane. A questi numeri si aggiunge un numero ancora imprecisato di firme raccolte dai comuni, nei consolati e negli studi degli avvocati ed alcuni gruppi che si sono giunti alla mobilitazione nelle scorse settimane. L'obiettivo di raccogliere almeno 750 mila firme, in modo da mettere in sicurezza il risultato da ogni possibilità di errori nella raccolta, ritardi della pubblica amministrazione e difficoltà nelle operazioni di rientro dei moduli, è dunque stato raggiunto. Ad oggi le firme fisicamente già rientrate al comitato sono 184.292, di cui 86.209 già certificate e pronte per la consegna. I tavolini per strada e gli altri punti di raccolta firme saranno aperti per tutto il mese di settembre, trasformandosi nelle nostre sedi da marciapiede, cioè luoghi di informazione ai cittadini, su tutti gli strumenti per vivere liberi, fino alla fine, ha detto Marco Cappato, inclusi il testamento biologico, le cure palliative e il suicidio assistito o legalizzato dalla consulta, ma boicottato dal Servizio Sanitario Nazionale. Abbiamo fiducia di arrivare un milione. Cambiamo decisamente argomento e scopriamo uno studio di Confindustria a Brescia sull'accesso nel mercato del lavoro in un territorio in cui l'industrializzazione è importante, sicuramente come la nostra città e la nostra provincia. Stando a questo studio sembra che le lauree tecnico-scientifiche siano quelle più ben accolte, con stipendi anche più alti già dal primo anno. Nei principali territori italiani a vocazione industriale, fra cui c'è anche Brescia, il mercato del lavoro premi i giovani laureati in materie tecnico-scientifiche, che segnano un salario d'ingresso medioannio superiore di oltre 1800 euro a quello dei laureati triennali. E' questa una delle principali evidenze emerse dall'HR Dashboard 2021, rapporto curato dal Centro Studi di Confindustria Brescia, che riunisce i risultati delle tre indagini retributiva sul mercato del lavoro e sui profili professionali, condotte nel primo semestre dell'anno su un panel di aziende associate sui temi che riguardano la gestione delle risorse umane. L'indirizzo di studi maggiormente premiato fa riferimento alle lauree tecnico-scientifiche, dove il salario medio d'ingresso è di 25.442 euro, di evidenti inferiori le retribuzioni dei laureati in materie economico-giuridiche 24.769 euro e umanistiche 24.467. All'ultimo posto si collocano i laureati triennali, che con 23.645 euro mostrano un gap rispetto alle retribuzioni migliori di circa 1.800 euro annui. Il rapporto è frutto della collaborazione fra Confindustria Brescia e alcune delle principali territoriali associate a Confindustria. All'iniziativa, che ha visto la partecipazione complessiva di oltre 3.000 imprese, con 424.000 dipendenti, hanno collaborato 320 associate a Confindustria Brescia, con quasi 35.000 addetti. Torniamo ora ad occuparci del bonus TV. La misura governativa è entrata in vigore ufficialmente lo scorso lunedì. Proprio lunedì ce ne eravamo occupati perché c'era stato qualche problema sul portale ministeriale. Ne avevamo parlato con Davide Rossi, direttore generale di AIRES. Sembra che a distanza di qualche ora la situazione sia migliorata. Il portale sia adesso nuovamente online e funzioni anche. È attiva la piattaforma per il bonus Rottamazione TV. I rivenditori possono accedere al portale messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per ricevere l'autorizzazione al rilascio del contributo per l'acquisto di televisori di nuova generazione previsto dalla legge di bilancio 2021. L'agevolazione è cumulabile con il precedente bonus TV Decoder e consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, rottamando apparecchi acquistati prima del 22 dicembre 2018, che non risultano più idonei ai nuovi standard tecnologici di trasmissione televisiva del digitale terrestre. Il rivenditore dovrà inserire il codice fiscale dell'acquirente e alcuni dati identificativi del nuovo televisore. Dopo aver effettuato le verifiche e accertata la disponibilità delle risorse, la piattaforma darà il via libera. Sommanete con noi perché torniamo con lo sport. E' importante perché c'è la vigilia della partita del Brescia. Prima partita in campionato al Rigamonti, prima partita dopo mesi e mesi con i tifosi. A fra poco. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet. Puoi riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Care amiche, da oggi si può. Stirare al massimo e senza pieghe finalmente è possibile. Termostir, creata per realizzare il vostro sogno. A casa o in stireria, la vostra garanzia. Una buonasera anche agli amici sportivi di E-Live. Come abbiamo detto, quest'oggi è la vigilia del ritorno a Rigamonti del Brescia Calcio, ma soprattutto, possiamo dirlo, dei tifosi del Rondinelle che sono pronti. In tanti hanno acquistato un tagliando per godersi questa partita dopo praticamente un anno e mezzo di porte chiuse. Partita Brescia-Cosenza. Fra poco scopriremo anche dettagli, curiosità e numeri, ma prima scopriamo anche i dettagli di come e quando si accede all'impianto di Monpiano. Venerdì si torna a Rigamonti. Non lo fa solo la squadra per la prima casalinga del nuovo campionato, ma lo fanno anche i tifosi, ormai lontani dagli spalti da mesi e mesi per l'emergenza Covid. Un appuntamento atteso, desiderato e finalmente arrivato, con regole ben precise da rispettare. La società, nelle scorse ore, ha infatti comunicato quali sono le modalità per accedere all'impianto di Monpiano, annunciando anche l'apertura anticipata dei cancelli, visto che i controlli di sicurezza richiederanno sicuramente del tempo in più rispetto al normale e le code non mancheranno. Il fischio d'inizio della sfida contro il Cosenza è fissato per le 20.30 e inizialmente si è pensato alle 19 per l'apertura dei cancelli. Questo orario è stato anticipato di mezz'ora e quindi, già dalle 18.30, prenderanno il via i controlli e quindi gli accessi. Come stabilito dalle norme, per entrare allo stadio e godersi la partita è necessario essere in possesso di un green pass valido o, in alternativa, aver effettuato un tampone negativo entro le 48 ore precedenti al match. E ovviamente se non siete riusciti ad acquistare un biglietto, o più semplicemente non vi piace, non avete voglia di andare allo stadio, la partita potete seguirla con Diretta Stadio, qui con noi su E-Live, a partire dalle 20 con Fabio Petteno e tutta la sua squadra. Quindi appuntamento, come sempre, da non perdere. Ora invece, come promesso, scopriamo quelli che sono i numeri, le statistiche, le curiosità e i precedenti di questa sfida. 60 anni fa andavano in scena le prime sfide fra Brescia e Cosenza in cadetteria. Le ultime risalgono la stagione scorsa, quando le rondinelle centrarono un doppio successo. Al Marulla-San Vito, nel girone di andata, fu 2-1. De Sena al 47esimo del primo tempo, Iaghiello al 61esimo, Baluli al 72esimo. Arriga-Monti, in quello di ritorno, è con secco 2-0, Biarnason al 49esimo e Aie al 79esimo. Una doppietta che ha portato a quattro i successi consecutivi in cadetteria, perché anche nel torneo 2018-2019 arrivarono sei punti nel doppio faccia a faccia. Mentre il segno X per il 2-2 in Cosenza-Brescia, 38esima giornata del 1999-2000, fa salire a cinque risultati utili per i Lombardi e rappresenta al tempo stesso l'inizio di questa striscia positiva e allora valse anche la matematica promozione in Serie A. L'ultimo KO risale a Brescia-Cosenza 0-1, 19esimo turno dell'ultimo campionato sopra ricordato. Man of the match di quella sfida risultò De Francesco, il rete nove minuti prima del triplice fischio finale. Ma scartabellando gli almanacchi, troviamo anche un Brescia-Cosenza nella seconda giornata di Bi. Il calendario segnava la data del 18 settembre 1988. Fu 2-0 con i centri di Napolitano al 74esimo e Cantarrutti al 76esimo. Fu però un torneo tribolato quest'ultimo, con la salvezza dalla Serie C conquistata soltanto allo spareggio contro l'Empoli e dopo 120 minuti rimasti fermi sullo 0-0. La scorsa settimana la squadra di Inzaghi ha esordito vincendo a Terni, quella di Zaffaroni andando KO ad Ascoli. Dando uno sguardo anche alla chiusura del torneo 2020-2021, scopriamo che il Cosenza è reduce da quattro sconfitte di fila senza marcare gol e che gli ultimi punti risalgono al primo maggio scorso, 3-0 sul Pescara. Doppietta di Tremolada, oggi al Pordenone, e centro di Carretta in forza al Perugia. Chiudiamo parlando di pallavolo, in particolare di Atlantide. Sentiamo le parole dal ritiro di un giovanissimo, appena arrivato in casa Atlantide, con nuovo acquisto quindi dei tucani, Nicolo Sevejevic. Sì, allora quest'estate ho ricevuto la chiamata da Roberto ed è stata una piacevole sorpresa e ho deciso quasi immediatamente di accettare la proposta, visto che mi sembrava molto competitiva sia da un punto di vista tecnico che anche come esperienza ad alto livello. Arrivo a Brescia dopo vari anni di Serie B, un'esperienza di A2, quindi penso di avere comunque visto abbastanza partite e aver giocato abbastanza campionati per arrivare con un buon bagaglio di esperienza per poter dare il mio contributo e la prima impressione è super positiva. Mi sembra una società molto preparata e molto organizzata. Diciamo che non mi piace darmi molte etichette perché mi piace sempre provare a migliorare anche dove non mi sento magari appunto più performante, però sicuramente mi piace il concetto di giocare una palla molto veloce e soprattutto anche dare un buon contributo dietro sia in eccezione ma anche in difesa. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del telegiornale. Io vi ricordo che tutte le altre come sempre le trovate aggiornate sul nostro sito internet livebrescia.tv eccolo qua dove trovate anche la diretta di E-Live in questa piccola finestra espandibile anche a tutta pagina e dove trovate anche i banner dedicati per ad esempio accedere ai nostri canali Telegram e se vi scrivete riceverete tutte le notizie direttamente sul vostro telefonino non appena vengono pubblicate. Prima di salutarvi vi ricordo un ultimo appuntamento questa sera alle 21 torna il meglio di motori a 360 gradi con Attilio Tantini Attilio Tantini che tornerà con una nuova puntata a partire dal prossimo giovedì ma anche questa sera sicuramente un appuntamento da non perdere. Grazie per averci scelto anche questa sera io vi ringrazio per essere stati con noi e vi invito a tornare con noi alle 12.30 per una nuova edizione del Telegiornale una buona serata a tutti voi. Puoi rivedere questa edizione del Telegiornale nella sezione E-Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast e va creare questo video. Pagrazione